L'Orezzo! 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 L Veretù che vede Pellegrini la piazza sotto l'incrocio ancora Lorenzo Pellegrini 4 a 0 poker di lusso della Roma di Mourinho Pellegrini palla dentro buona per Cristante lo schema è perfetto e la Roma è davanti minuto 37 tocco di Pellegrini su punizione si inserisce perfetto Cristante Pellegrini che poi apre a destra nel frattempo Zanio lo viene trattenuto Cardol dentro il tacco che gol di Lorenzo Pellegrini Roma in vantaggio al minuto 36 con la perla del numero 7 Mkhitaryan può avanzare palla buona per Pellegrini controllo destro deviato Vicario non ci arriva e la Roma in vantaggio Lorenzo Pellegrini può festeggiare con il gol che manda davanti la Roma il rinnovo Roma 1 e Polizero a 3 dall'intervallo la sblocca il capitano Pellegrini Pellegrini prima il cross secondo palo colpo di testa e stavolta si è tutto buono arriva l'uno a uno con Roger Ibagnez la Roma la livella con il colpo di testa del difensore Ibagnez dopo il derby si ripete anche a Cagliari 1 a 1 ma Pellegrini in porta super goal la pennellata di Pellegrini la Roma la ribalta con un colpo d'autore e una magia un incantesimo Pellegrini 2 a 1 e va in cross in area colpo di testa da allontanare poi Pellegrini deviazione di Abraham che in posizione regolare e rimette la Roma in partita 2 a 1 Stavon Vignan non può nulla Fena Ghian dietro da Venetou muove il pallone in verticale poi Pellegrini per Mkhitaryan vede la porta calcia deviazione palla in porta la Roma torna in vantaggio Mkhitaryan al terzo minuto del secondo tempo ancora avanti la squadra giallorossa pronto Pellegrini va Pellegrini dove l'ha messa Pellegrini col fantastico da calcio di punizione Roma 3 Juventus 1 all'incrocio dei pali il calcio di punizione meraviglioso di Pellegrini parte Pellegrini incrocia e non sbaglia 1 a 1 la pareggia Lorenzo Pellegrini Pellegrini va direttamente in porta è un super super goal quello del capitano Pellegrini delirio Roma 3 a 0 giocata da effetto wow usa il pennello delle grandi occasioni Pellegrini per il 3 a 0 il pallone pericolosissimo che viene intercettato da Pellegrini zona tiro occhio a 7 che va da Abraham balla alla porta prova a girarsi ancora Abraham Abraham Roma in vantaggio al 33esimo la sblocca il 9 ma Pellegrini che batte Beriscia per il goal del 3 a 0 la Roma la chiude che è